Il mercato delle punte, ancora piuttosto fermo, potrebbe sbloccarsi generando un rapido effetto domino. Uno dei primi tasselli è quello di Edinson Cavani. Non so se l'arrivo di Benitez possa influenzare il mio futuro, ha fatto sapere il Matador. Ho un contratto con il Napoli, ma allo stesso tempo parlo con altre società, che sono il Chelsea, pronto a offrire 58 miliardi al club di De Laurentiis, e il Real Madrid. L'arrivo dell'uruguayano alle Merengues potrebbe liberare Iguain, principale obiettivo della Juventus. Florentino Perez ha però frenato sulla trattativa con i bianconeri. Se pensano di portarlo a Torino, con 30 milioni, è meglio se non vengono, quella cifra non basta. Non è più semplice la trattativa con la Fiorentina per Jovetic. Il Montenegrino è finito nella bufera dopo aver confessato alla Gazzetta. Firenze resterà nel mio cuore, ora però sento di dire addio, anzi, arrivederci. La Juve mi cerca da un anno, lì migliorerei. Non credo sarebbe un tradimento. L'ambiente viola, dai vertici societari fino alla tifoseria, si è solo irrigidito con l'attaccante, ma i della Valle sembrano intenzionati a non cedere alla Juventus, su cui, secondo il DS Pradè, c'è sempre stato un veto. Il nome caldo per attacco gigliato è sempre quello di Mario Gomez. La Bilt, che già aveva annunciato la firma di un quadrinnale con il Napoli, da parte del centroavanti, ora afferma, trovate un accordo con la Fiorentina. E i partenopei? Per far fronte alla partenza di Cavani, potrebbe arrivare dal Parma Belfodil, sul quale gli azzurri sono passati in vantaggio sulle milanesi. Uno dei motivi? Il difficile approdo di Cassano a club ducale. Non ne abbiamo mai parlato, è fantacalcio, ha affermato l'amministratore delegato Pietro Leonardi. Capitolo Milan. Il trequartista, tanto voluto dal patron Berlusconi, potrebbe essere a via il pastore. Il flaco non si era vestito di rosso nero a gennaio, ma ora il vento sembra cambiato. Sarebbe stato Leonardo in persona a proporre al suo ex club l'argentino, in pressito con diritto di riscatto. Più vicino all'addio, invece, è Stefano Il-Sharawi. I bookmakers iniziano a credere a un suo passaggio al Manchester City. Gente che viene, gente che va. Nonostante il peso nello spogliatoio, Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus. L'ambizioso Monaco è disposto ad acquistare il Principino pagandolo ben 30 milioni, cifra che i bianconeri potrebbero reinvestire nella caccia al bomber. Intanto è vicinissimo bianconero Gbon, irrinunciabile quadrinale da 1,8 milioni di euro netti a stagione. In uscita dal Toro anche Rolando Bianchi, ormai è asta tra Genoa e Atalanta.